Dal 19 al 27 ottobre torna a Napoli Est Move Image, il primo cinefestival italiano dedicato alla biodiversità del cibo e delle culture. Sono 20 le storie raccontate nei cortometraggi finalisti della Rassegna, realizzati da registi italiani under 35 e presentati al Teatro Nest di San Giovanni a Teduccio. Siamo alla seconda edizione. I nostri film, sia i film dei giovani ragazzi under 35 che hanno partecipato al concorso di cortometraggi, che film internazionali che proietteremo durante le giornate del festival, sono film che parlano di cibo. Ma in realtà il cibo per noi è uno strumento per raccontare storie che riguardano i diritti, l'impatto ambientale dei nostri consumi e anche le relazioni e la possibilità di esplorare altri popoli, altre culture, altre comunità attraverso il cibo. A decretare il corto vincitore nella serata di sabato 27 sarà una giuria di studenti, critici, giornalisti ed esperti del mondo cinematografico al termine di una settimana di eventi gratuiti collaterali al concorso che vedono protagonista il cibo. Oltre al cinema, che è il cuore del festival, in realtà proponiamo una serie di attività collaterali. Tra queste abbiamo dei corsi di cucina multietnica, in cui appunto i partecipanti saranno in fornelli insieme a cuochi dal mondo che oltre ai profumi e ai sapori dei loro paesi potranno portare parte della loro storia. Poi avremo uno spettacolo teatrale che sarà uno spettacolo teatrale dedicato al tema della Palestina in cui si cucinerà in scena e poi si degusterà tutti insieme. E ancora ci sarà un cineconcerto dedicato alle comiche di Buster Keaton in cui ricorrerà il tema del cibo e nel frattempo un quartetto jazz sonorizzerà i muti dal vivo. Durante i giorni delle proiezioni sarà possibile degustare una selezione di prodotti della filiera di commercio equo e solidale coinvolti dalla cooperativa Le Tribù. La seconda edizione di Muvim, cioè ideata dalle associazioni Gioco, Immagine e Parole, fuori dal seminato e dalla cooperativa Mandacaru, in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune. Sono riusciti a trasformare questo luogo di periferia in un luogo cosmopolita cioè in cui si avviene incontro di culture, di ricerca, di appunto in questo caso viene affrontato uno dei temi cruciali, cioè un altro modello di sviluppo appunto che si è fondato sulla biodiversità, anche sulla cultura del cibo. Vorrei ricordare che noi siamo la città che ha il primato dell'obesità infantile quindi da questo punto di vista anche criticare i modelli consumistici che ci portano verso patologie sociali così gravi è un grande segno appunto che tutt'altro che periferia siamo a cuore delle grandi questioni del mondo contemporaneo. grazie a tutti. Grazie a tutti.